Renzo Aghiari, una grande partita, una bella vittoria per 4-2, forse un finale nel quale ti ho visto molto arrabbiato con qualche compagno, un finale che rischiava di complicare una gara che all'inizio del secondo tempo diceva 4-0 per voi. Sì, salve. Noi questa traspetta qui la tenivamo molto, perché venire sull'isola è sempre difficile. Affrontare una squadra come il Barano, una squadra che va a cercare di punti di salvezza, una squadra molto dura. Sì, il primo tempo l'abbiamo impostata sul ritmo, sul gioco e ci ha dato ragione sul 4-0. Poi, negli ultimi dieci minuti è giusto che il Barano ha avuto una reazione e sono usciti anche loro fuori, perché noi secondo me abbiamo avuto un calo di tensione, quella è stata la cosa. Si è abbassato un po' l'attenzione. Sì, sì, abbiamo avuto questo calo di tensione. Infine, non posso non chiederti se l'Ischia la segui ogni tanto. Molto. L'Ischia mi è rimasto nel cuore. Venire sull'isola è sempre una gioia. Poi, sapere che l'Ischia va forte, stare in zona playoff, mi riempie il cuore. Non so se tu la segui la Serie D, se te l'aspettavi un'Ischia così forte alla fine in questo campionato. Sì, l'Ischia è allenato in un grande allenatore come Buonocore, è un'ottima società, è un direttore sportivo che prende i giovani di un certo spessore. Ti ripeto, mi fa molto piacere che l'Ischia sia in zona alta della classifica. Sembra forza giallo blé. Grazie Clinton. Grazie. Ciao.